la tecnica del karma monaco 31 maggio 1907 per poter afferrare ancor meglio la legge del karma per quanto essa si manifesta nella vita umana voglio ricordare un fenomeno che interviene immediatamente dopo la morte ricordiamoci del quadro mnemonico che appare quando l'uomo si libera del corpo fisico e vive per breve tempo nei soli involucri del corpo eterico e di quello astrale prima di continuare il suo viaggio attraverso il mondo elementare per comprendere l'intima azione del karma mi si è permesso di descrivere lo stato di sentimento che si prova già mentre si osserva quel grande quadro si tratta della sensazione di sentirsi ingrandire del crescere fuori di se stessi il fenomeno si manifesta sempre più ancora mentre l'uomo è nel suo corpo eterico si è infatti in una strana condizione di fronte al quadro mnemonico da prima si tratta di immagini della vita passata che si vedono come in una specie di panorama arriva poi il momento non molto tempo dopo la morte ore o anche giorni a seconda dell'individualità nel quale si ha la sensazione di essere noi medesimi le immagini osservate si sente crescere il proprio corpo eterico come se comprendesse tutta l'atmosfera terrestre su fino al sole quando poi l'uomo abbandona il corpo eterico interviene un'altra stranissima sensazione molto difficile a descriversi con le parole del mondo fisico ci si sente espandere dilatare lontano nel cosmo ma come se non si arrivasse a riempirlo lo si può descrivere solo malamente è come se una parte del proprio essere fosse a monaco un'altra a magonza una terza basilea e un'altra ben al di fuori della sfera terrestre magari sulla luna ci si sente come spezzettati mentre gli spazi intermedi sembrano non appartenerci questo è lo strano modo di sentirci sul piano astrale come diffusi nello spazio in diversi luoghi senza però riempire lo spazio intermedio si hanno queste sensazioni per tutto il periodo del kamaloka che l'uomo vive a ritroso sino alla nascita si tratta di sperimentare le scene vissute che poi si articolano con tutta la rimanente vita del kamaloka è importante saperlo per avere un'idea di come agisca la legge del karma in un primo tempo ci si sente nella persona con la quale si fu legati da ultimo e poi man mano in tutti gli uomini o gli esseri quei quali si ebbe a che fare durante la vita se per esempio si è picchiato qualcuno a magonza dopo la morte e a tempo debito si rivivono le busse e i dolori causati se quindi l'interessato è ancora a magonza una parte del corpo astrale dopo la morte si sente in quella città e la rivive la scena se però nel frattempo chi ebbe le busse è morto ci si sentirà nel luogo dove egli si trova nel kamaloka naturalmente non abbiamo a che fare con quella sulla persona ma anche con molte altre sparse sulla terra e nel kamaloka ci si trova quindi dappertutto e ciò è possibile grazie allo spezzettamento caratteristico della corporeità nel kamaloka possiamo così sperimentare entro il nostro prossimo quanto si ebbe a che fare con ogni singolo costituendoci così un legame durevole con tutti coloro con i quali fumo in contatto si sarà quindi legati con quella persona che si è picchiata perché si sarà vissuto con lei nel kamaloka più tardi si sale nel deva chan per ritornare in seguito nel kamaloka dove il corpo astrale ritroverà quanto ci unisce a coloro nei quali ci si era immedesimati siccome vi sono molti collegamenti del genere ne risulta che tutto quanto ci riguarda è unito a noi da una specie di legame sulla scorta di osservazioni occulte si avranno dei chiarimenti in merito ricordando quanto ho già raccontato nei giudici della santa veme che condannarono a morte un uomo eseguendo anche la sentenza nella vita precedente il condannato era stato una specie di capo e aveva fatto giustiziare cinque persone poi egli morì e durante il kamaloka dovette raggiungere il luogo dove erano gli altri sperimentando nell'interiorità degli altri cinque la sensazione che questi avevano avuto in occasione della loro uccisione questo è l'inizio delle forze di attrazione che nella nuova incarnazione sulla terra riuniscono le persone affinché possa compiersi la legge del karma così è la tecnica del karma ci sono modi di essere affinità nel mondo che iniziano già sul piano astrale sul piano fisico abbiamo la continuità della materia mentre su quello astrale possono essere sperimentate parti della corporeità affini fra di loro ma ciò nonostante separate è come essere coscienti di avere la testa poi nulla fra testa e cuore poi solo il cuore di nuovo nulla ed infine i piedi una parte di noi potrà essere in america essere separata ma appartenere alla stessa nostra corporeità astrale un'altra parte sulla luna e una terza magari su un altro pianeta e non c'è bisogno che vi sia alcun nesso astrale visibile fra le diverse parti considerando la legge del karma in questo modo comprenderemo che gli avvenimenti di un ciclo della vita di un uomo sono il risultato di diverse cause risalenti a vite precedenti ci si può ora chiedere come si possa far concordare la legge del karma con quella dell'ereditarietà perché si dice che vi sarebbero delle contraddizioni fra queste due leggi una persona moralmente sana sembrerebbe dover discendere da una famiglia altrettanto morale dovrebbe cioè aver ereditato la moralità dai suoi ascendenti considerando però i processi fisici da un punto di vista occulto sappiamo che non è così seppure sotto un altro aspetto possiamo considerarli come fenomeni ereditari degli esempi chiariranno meglio il fenomeno nella famiglia bach nel corso di 250 anni sono nati 29 musicisti fra i quali il grande bach per essere un buon musicista non basta la sola intima capacità musicale occorre anche un orecchio ben formato fisicamente in un modo determinato un profano non distingue i due aspetti perché occorre guardare con profonde forze occulte anche se la differenza è piccola di scarsa importanza occorre pur sempre una certa forma interna degli organi dell'udito affinché si possa divenire dei musicisti queste forme si ereditano e sono simili a quelle del padre del nonno e così via si ereditano proprio come la forma del naso supponiamo ora che sul piano astrale un'individualità sia pronta a incarnarsi e che stia cercandosi un corpo fisico supponiamo oppure che da secoli o da millenni abbia acquistato capacità musicali se non riesce a trovare un corpo fisico con l'orecchio adatto non potrà diventare musicista tenderà perciò verso una famiglia nella quale esista orecchio musicale perché non potrebbe sviluppare le sue disposizioni musicali senza l'orecchio adatto allo stesso modo il più grande solista virtuoso nulla ci potrebbe far ascoltare senza uno strumento anche il talento matematico richiede qualche cosa di ben determinato il matematico non ha il cervello costruito in modo speciale come molti ritengono il pensiero la logica sono uguali per lui come per chiunque altro sono invece determinanti i cosiddetti tre canali semicircolari esistenti nell'orecchio che sono in un certo nesso fra di loro in modo da riprodurre le tre dimensioni dello spazio lo speciale sviluppo dei tre canali è pregiudiziale per il talento matematico condiziona la comprensione della matematica si tratta di un organo fisico e deve quindi essere ereditato nella famiglia bernulli vediamo così incarnarsi otto matematici di valore anche chi è morale per realizzare la sua predisposizione ha bisogno di genitori dai quali avere per eredità un corpo fisico adatto avrà allora quei genitori perché egli è una determinata individualità e non un'altra l'individualità si sceglie quindi i suoi genitori anche se sotto la guida di entità superiori data all'esistenza dell'amore materno si potrà non essere d'accordo su questi fatti si potrà infatti temere di perdere qualcosa se si riconosce che il figlio non eredita dalla madre alcune qualità la vera conoscenza però arriva persino ad approfondire il sentimento dell'amore materno mostra infatti che si tratta di un amore esistente ancora prima della nascita ancora prima del concepimento di un amore che ha diretto il bambino verso la madre già prima della nascita l'amore del bambino muove incontro alla madre che lo contraccambia visto spiritualmente l'amore materno risale fino a prima della nascita deriva da reciproci sentimenti d'amore si crede spesso che l'uomo sia sottoposto all'immutabile legge del karma e che questa sia invariabile faremo ora un esempio tratto dalla vita per afferrare l'azione della legge del karma nei libri di un commerciante sono registrate determinate poste in dare in avere sommandole e confrontandole sia alla condizione dei suoi affari sottoposta all'inesorabile legge contabile del dare dell'avere se però il commerciante conclude nuovi affari dovrà notare altre registrazioni e sarebbe uno stolto se non volesse concludere nuovi contratti dopo la chiusura del bilancio in relazione al karma si hanno nella colonna dell'avere tutte le azioni buone intelligenti vere e giuste che si sono compiute nella colonna del dare tutte le azioni cattive stolte si è liberi in ogni momento di registrare nel libro karmico della vita delle nuove scritturazioni non si deve quindi mai credere che la vita sia dominata da un destino immutabile la libertà non risulta limitata dalla legge del karma in relazione a quest'ultima bisogna pensare tanto all'avvenire quanto al passato noi subiamo le conseguenze delle azioni passate siamo gli schiavi del passato ma i signori dell'avvenire per prepararcene uno buono dobbiamo annotare le migliori registrazioni nel libro della vita è un grande e potente pensiero il sapere che qualsiasi cosa si faccia non è inutile che ogni nostra azione influenzerà l'avvenire così intesa la legge non ci opprime ma ci riempie della più bella speranza diventa il più bel dono della scienza dello spirito dobbiamo rallegrarci della legge del karma perché grazie ad essa possiamo guardare all'avvenire abbiamo il compito di lavorare per la legge del karma essa nulla contiene che possa rattristare l'uomo nulla che dia una colorazione pessimistica al mondo essa dà ali alle nostre azioni che tendono a collaborare per l'evoluzione della terra la conoscenza della legge del karma deve trasformarsi in sentimenti del genere di una persona sofferente si dice spesso che abbia meritato il suo dolore che debba sopportare il suo karma e che aiutandola si interferisce nel suo destino invece non è così la sua povertà e la sua miseria sono la conseguenza della sua vita precedente ma aiutandola si fanno nuove registrazioni nel libro della sua vita si contribuisce al suo progresso sarebbe altrettanto stolto dire a un commerciante invece di salvarlo dal fallimento con un prestito qualsiasi che non lo si aiuta perché in tal modo si varierebbe il suo bilancio la conoscenza che nei nessi carmici nulla è senza effetto ci deve spingere ad aiutare i nostri simili ci deve essere di sprone per le nostre azioni concrete molti contestano la legge del karma dal punto di vista del cristianesimo i teologi dicono che il cristianesimo non può riconoscere la legge del karma perché se essa fosse severa non sarebbe più ammissibile il principio della morte del cristo per l'umanità vi sono anche seguaci della scienza dello spirito che affermano la contrapposizione fra la legge del karma e il principio della redenzione sostengono di non poter riconoscere l'aiuto dato da un solo essere a molti uomini le due posizioni sono errate e dipendono da un errata comprensione della legge del karma immaginiamo di conoscere qualcuno in miseria e di essere nella felice condizione di poterlo aiutare per quell'aiuto portiamo una nuova registrazione nel libro della sua vita qualcuno più potente potrà aiutare due sofferenti e agire così sul karma di due persone un altro ancora più potente potrà aiutare dieci o cento persone il più potente potrà aiutare un numero infinito di persone senza peraltro contraddire al principio dei nessi karmici proprio per l'affidamento che dà la legge del karma sappiamo che aiuti del genere influenzano realmente il destino dell'uomo si sa che in effetti l'umanità aveva bisogno proprio di quell'aiuto quando il cristo fu inviato e scese fino al piano fisico la morte in croce del redentore di quell'essere unico rappresenta l'aiuto che ha influenzato il karma di un numero infinito di persone non esiste contrasto fra la scienza dello spirito e l'esoterismo cristiano entrambi rettamente intesi si riscontra anzi una profonda concordanza fra le norme di embe due e non si è per nulla obbligati ad abbandonare il principio della redenzione affereremo ancor meglio la legge del karma quando passeremo all'evoluzione dell'umanità e della terra abbiamo accennato ad alcuni fatti per comprendere la legge del karma e comprenderemo ancora dell'altro quando passeremo all'evoluzione dell'umanità non soltanto quella svoltasi sulla terra ma anche quella avvenuta durante l'esistenza degli altri pianeti che furono le precedenti incarnazioni della terra stessa ritroveremo allora dei completamenti alla legge del karma risalendo ad antichissimi tempi o accennando al più lontano avvenire in via introduttiva consideriamo ancora alcuni importanti fatti oggi abbiamo stabilito che il corpo fisico umano quello che noi vediamo con gli occhi fisici viene formato dalle parti costitutive superiori della natura umana abbiamo stabilito che l'io il corpo astrale quello eterico e così via sino alla parte più alta l'atma lavorano al nostro corpo fisico non tutte queste parti oggi costituenti l'uomo hanno lo stesso valore una considerazione anche superficiale è sufficiente per stabilire che il corpo fisico è senz'altro la parte più perfetta della nostra natura solo per esempio si esamini una parte del femore non si presenta compatto ma costituito di travicelle artisticamente disposte in ogni direzione considerandolo non soltanto con l'intelletto ma anche col sentimento si resterà meravigliati della saggezza che lo ha costruito che non ha impiegato più materiale dello stretto necessario allo scopo di poter sopportare il tronco sempre sulla base del principio del minimo sforzo nella costruzione di un ponte l'ingegneria è lungi dall'essere progredita sino alla saggezza che ha costruito il femore in natura studiando il cuore umano non soltanto come cultori d'anatomia e di fisiologia vi si riscontrerà la manifestazione di una elevata saggezza non si creda che il corpo astrale umano per sua natura sia oggi progredito come il cuore fisico dell'uomo il cuore è costruito con arte e saggezza mentre le tendenze del corpo astrale fanno sì che l'uomo aggravi per decenni il lavoro del cuore che deve anzi resistere ai veleni impostigli soltanto a un gradino futuro di evoluzione il corpo astrale sarà sviluppato come ora lo è il corpo fisico anzi sarà allora molto più progredito oggi il corpo fisico è il più perfetto meno lo è l'eterico e ancor meno l'astrale l'io è la più giovane fra le parti costitutive dell'uomo come oggi ci si presenta il corpo fisico è la parte più vecchia della natura umana quella che è stata elaborata più a lungo soltanto dopo aver raggiunto un certo gradino nel corso dell'evoluzione esso fu compenetrato dal corpo eterico dopo che questi due ebbero agito insieme per un certo tempo venne aggiunto il corpo astrale e infine l'io che però in avvenire salirà ad altezze insospettate nella scala evolutiva come l'uomo si incarna ripetutamente anche la nostra terra ha passato diverse incarnazioni e altre ancora ne attraverserà il principio della reincarnazione è valido per tutto il cosmo e la nostra terra nella sua attuale figura è la reincarnazione di precedenti pianeti c'è possibile vedere tre di tali incarnazioni prima di divenire come oggi è la nostra terra era quella che in occultismo e non in astronomia viene chiamata antica luna la luna attuale è una specie di scoria espulsa perché non più utilizzabile potendo mescolare terra e luna attuali con tutte le loro sostanze e i loro esseri otterremmo la precedente configurazione della terra la luna dell'occultismo oggi la terra è il residuo della luna di allora abbandonate le scorie come la luna attuale è formata dalle scorie espulse della precedente incarnazione luna il sole che oggi brilla in cielo deriva da uno stato ancora precedente della terra prima di diventare luna la terra stessa era l'antico sole come viene chiamato in occultismo e come tale consisteva di tutte le sostanze e gli esseri che oggi formano il sole la luna e la terra il sole attuale si liberò di quelle parti che non poteva tenere quale corpo celeste elevato si liberò delle sostanze degli esseri che oggi formano la terra e la luna e divenne perciò una stella fissa per l'occultismo una stella fissa non è sempre stata tale e il sole lo è divenuto dopo essere stato pianeta il sole attuale un tempo unito alla terra accoglie in sé parecchie entità superiori agli esseri terrestri mentre la luna come oggi la vediamo ebbe le parti peggiori ed è perciò una scoria espulsa la luna è un pianeta degradato mentre il sole è salito di grado lo stadio solare è stato preceduto da un altro dallo stadio dell'antico saturno si hanno così quattro successive incarnazioni della terra saturno sole luna e terra il progenitore umano sviluppatosi su saturno consisteva unicamente del principio del corpo fisico sul sole si aggiunse il corpo eterico sulla luna il corpo astrale e sulla terra l'io nella mia conferenza il sangue è un succo affatto peculiare descrissi l'intima relazione fra sangue e io il sangue non esisteva nel corpo dell'uomo prima che vi si incarnasse un io di modo che il sangue umano rosso è in rapporto con la stessa evoluzione della terra non si sarebbe potuto formare se la terra nel corso della sua evoluzione non si fosse incontrata con un altro pianeta con marte prima di allora sulla terra non esisteva il ferro il sangue ne era privo e anzi non vi era quel tipo di sangue dal quale oggi l'uomo dipende nella prima metà dell'esistenza terrestre è stata determinante per l'evoluzione l'influenza del pianeta marte mentre nella seconda metà lo è quella del pianeta mercurio marte ha dato alla terra il ferro mentre l'influenza di mercurio si avverte perché l'anima umana diventa più libera può essere sempre più indipendente in occultismo si parla perciò di due metà dell'evoluzione terrestre la prima di marte e la seconda di mercurio mentre le precedenti evoluzioni planetarie sono indicate ciascuna con un nome di pianeta per quella della terra si usa l'espressione di marte mercurio con questi nomi non si indicano i due pianeti attuali ma quanto esercitò il suo influsso nella prima e poi nella seconda metà dell'evoluzione terrestre in avvenire la terra si reincarnerà in un altro pianeta che si indica col nome di giove allora il corpo astrale sarà talmente sviluppato da non contrapporsi più quale nemico al corpo fisico come oggi avviene neppure allora però il corpo astrale raggiungerà il suo più elevato gradino di sviluppo il corpo eterico invece avrà allora raggiunto il grado di perfezione del corpo fisico perché avrà passato tre evoluzioni planetarie quante ne ha passate oggi il corpo fisico nell'ancora successiva incarnazione planetaria il corpo astrale sarà evoluto come quello fisico attuale avrà allora passato gli stadi planetari di luna terra e giove per arrivare allo stato di venere nell'ultima incarnazione planetaria su vulcano l'io avrà raggiunto la sua più alta evoluzione le future incarnazioni della terra sono dunque giove venere e vulcano si ritrovano gli stessi nomi nei giorni della settimana nei tempi antichi erano gli iniziati che davano il nome ai fatti riguardanti gli uomini oggi non si sente più l'intima relazione fra i nomi e le cose i giorni della settimana dovrebbero ricordare agli uomini il loro di venire attraverso gli stadi evolutivi della terra cominciamo dal sabato il giorno di saturno saturday in inglese poi domenica il giorno del sole zonta in tedesco lunedì il giorno della luna quindi marte mercurio le due fasi della nostra terra il giorno di marte martedì martì in francese e in tedesco è il giorno di mercurio mercoledì martedì in francese e mercurio risponde a votan e tacito parla di un votan stack o giorno di votan ancora oggi in inglese wednesday poi giovedì giorno di giove giovedì in francese giovedì giove è il tedesco dona e quindi tonastag da ultimo il giorno di venere venerdì vendredì in francese freitag in tedesco da freia corrispondente a venere nel susseguirsi dei giorni della settimana sia quindi un ricordo del divenire della terra nelle sue diverse incarnazioni da la saggezza dei rosa croce di rudolf steiner grazie a tutti grazie a tutti